I libri e biblioteche per dare nuova linfa allo sviluppo del Cilento. Si tratta di un'idea progettuale che mette insieme alcuni comuni del Cilento con la fondazione Gian Battista Vico. L'ente presieduto da Vincenzo Pepe nei giorni scorsi ha infatti donato alcuni libri a sette comuni dell'entroterra cilentano, precisamente oltre 10.000 volumi. L'importante iniziativa vede coinvolti i comuni di Moia della Civitella, Gioio, Orlia, Perito, Salento, Turchiara e Vatola di Perdifumo, le cui biblioteche sono state arricchite con un numero considerevoli di libri. Ora si passa alla seconda fase di progettazione che è quella di far sorgere un sito internet che raccolga come un grande archivio virtuale tutto ciò che è presente nelle varie biblioteche. E' un'operazione che stiamo cercando di mettere in campo con grande capabilità e con anche grande sacrificio perché sappiamo bene quanto il territorio necessita di una leva culturale per far sì che le filiere economiche possano ripartire ed essere ricongiunte ad un substrato storico antropologico che non può essere smarrito. E dunque siamo oggi nella possibilità di annunciare che siamo davvero a buon punto. I comuni coinvolti sono innanzitutto quello di Turchiara dove abbiamo avuto in affidamento il Palazzo Baronale con un comodato d'uso. E' stato oggetto tra l'altro il Palazzo Baronale di recente di un importante restauro e ad opera della fondazione ora diventerà un centro culturale con all'interno un avamposto importante di questa biblioteca diffusa. Ma oltre che Turchiara questo riguarderà anche altri avamposti e ovvero saranno toccati i comuni di Orria, di Moio della Civitella, di Salento, di Perito. E mi sembra di averli detti tutti, se ne ho saltato qualcuno perché sono davvero tanti in questa prima tornata e credo che altri ancora saranno affiancati. In questa rete di biblioteca diffusa oggi abbiamo avuto la possibilità di consegnare una mole importante di volumi, una parte di questi, direi la maggior parte, tra l'altro volumi storici di rilevante importanza, volumi che sono datati 700-800 e poi una sezione contemporanea di enorme prestigio. Quindi saranno tutti quanti catalogati e inseriti nel sistema SBN nazionale per cui avremo la possibilità di certificare il deposito di queste opere uniche in questi comuni cilentani, sperando che questo sia uno dei momenti su cui poggiare una rinascita e fermare un po' questo depopolamento sociale che porta a questo spopolamento che sembrerebbe inarrestabile. Speriamo tutti insieme con iniziative anche come queste di poter porre un argine.